Era nostro dovere andare a lavorare subito e fare in modo di capire gli eventuali errori dove sono stati fatti. Spero che i ragazzi abbiano capito e allo stesso tempo bisogna fare in modo di cambiare rotta e cercare di ritornare a fare quella prestazione con grande cattiveria agonistica. Una settimana di allenamenti per riflettere su cosa è mancato a Cittadella. Dopo la bruciante sconfitta in casa dei Granata, mister Parlato chiede ora ai suoi ragazzi di ripartire e di ritrovare la prestanza agonistica delle prime due partite di campionato. I biancoscudati domani saranno in trasferta in casa della milanese Renate, penultima in classifica con tre punti a pari merito con il Cuneo. Sappiamo benissimo che dobbiamo andarcele a prendere le cose, quindi l'entusiasmo se non arriva dal risultato ce lo dobbiamo creare in settimana e intrinsecamente sicuramente i ragazzi sono consapevoli di lavorare di più e fare in modo di entusiasmarsi alle loro giocate.